Radio Icano, tempo reale, estate Ed eccoci qua, buongiorno a tutti voi che seguite la nostra mattinata in diretta su Icaro TV e Radio Icaro, tempo reale, estate, puntata del martedì, sono le 8, magari, sono le 9.08, quindi insomma, io già volevo anticipare di un'ora, andavo direttamente a Wimbledon per seguire le belle partite della giornata di oggi, quindi sono le 9, anzi in questo momento 0-9, Buona giornata da me, da Simona Mulazzani, dal nostro direttore artistico Max Alberici, cercheremo un po' di raccontarvi quello che è successo nelle ultime ore, chiaramente vi racconteremo di cronaca, vi racconteremo di attualità, ma cercheremo anche di farvi delle proposte, delle proposte per trascorrere le vostre serate piacevoli, calde, perché insomma questa settimana arriva l'ondata africana e quindi insomma c'è qualcuno che festeggia per il sole, per il caldo, c'è chi invece si comincia a preoccupare e va alla ricerca in ogni angolo di frescura, di ombra e di aria condizionata, certo è che le sere è bello trascorrerle fuori, ci sono tanti appuntamenti, qualcuno di questi ve li presenteremo e poi cos'altro, perché c'è anche invece chi ama stare in casa la sere, allora ci vuole una bella proposta televisiva e allora in questi casi arriva a dare una mano Icaro TV. Bene, le notizie le recuperiamo un po' anche dal nostro sito newsrimeni.it che vi consiglio chiaramente di leggere costantemente, aprirlo più volte al giorno perché viene costantemente aggiornato in tempo reale e proprio da lì vorrei partire perché c'è anche tanta cronaca ma ne parliamo tra un istante. Diciamo che ieri è iniziata un po' la nuova era dell'immobile, di quella che sarebbe dovuta diventare la questura di Rimini. Ora noi per semplificare perché i titoli ci stiano insomma nelle stringhe dei giornali così come dei siti, evidentemente si parla sempre di ex questura. Molti giustamente dicono ma non è mai diventata una questura, magari perché c'è uno scempio rispetto a quanto è accaduto. Certo è questo scempio l'abbiamo raccontato tante volte, questa assurdità del nostro territorio l'abbiamo raccontata più volte ma adesso vi vogliamo raccontare quella che diventa una vera e propria nuova vita. Perché? Perché ieri dopo anche un intervento da parte della Polizia di Stato per sgomberare l'immobile dalle persone che vi avevano trovato un rifugio, un rifugio di fortuna proprio in questi ultimi giorni c'è stato anche l'impossessarsi del cantiere da parte della società di Asi che ricordiamo ancora una volta aveva acquisito per una somma importante l'immobile durante un'asta. Bene, il primo passaggio è quello intanto di entrare dentro il cantiere, di far sì che i lavori possano iniziare. Era stato detto, era stato detto anche dagli accordi presi da amministrazione comunale e società e azienda che tutto sarebbe partito nella giornata di lunedì 8 luglio e così è stato. Dopo lo sgombero di persone che non dovevano essere lì all'interno dell'immobile sono arrivati i primi cantieri, sul cantieri i primi operai e i primi mezzi. Sono coloro che dai prossimi giorni inizieranno ad abbattere quello stabile. E allora noi c'eravamo, abbiamo realizzato alcune fotografie proprio in questo momento che è un po' effettivamente un momento storico per quella assurda vicenda. E allora ve lo raccontiamo in questo servizio del nostro Maurizio Ceccarini. Quello eseguito in mattinata dagli agenti della Polizia di Stato è stato l'ennesimo sgombero della lunga storia di abbandono dell'edificio di Via Bassi mai diventato sede della Questura di Rimini. La notizia di oggi è che però si tratta probabilmente dell'ultima azione di questo tipo. Come da accordi tra proprietà e amministrazione comunale, lo sgombero delle persone che bivaccavano all'interno è stato seguito dalla consegna del cantiere per la demolizione dello stabile. Sul posto presenta anche il responsabile del progetto Rimini Life, Marco D'Adalto, che ha incontrato responsabili e operai della ditta riminese ecodemolizioni incaricata dell'intervento. All'esterno è stato posto il cartello di inizio lavori e i primi operai e mezzi di lavoro sono entrati nel cantiere che sarà presidiato dalla vigilanza privata. L'intervento si articola in due stralci. Il primo prevede la demolizione integrale dell'edificio e quindi la realizzazione degli alloggi pubblici previsti e della medio-piccola struttura di vendita. La seconda fase prevede invece la realizzazione del secondo intervento privato con residenziale e una piccola quota di esercizi commerciali di vicinato e pubblici esercizi. A guardarla anche nelle immagini, in queste fotografie, si vede effettivamente una struttura gigante. Bene, quando partirà anche questa demolizione che ricordiamo insomma durerà diverse settimane, diversi mesi perché si conta di concludere entro ottobre, effettivamente ci sarà un po' un senso di vuoto in quella realtà. Noi scherzando nei giorni scorsi abbiamo detto mettiamo una tribunetta per gli umarelli e non solo che potrebbero effettivamente essere molto contenti di poter seguire da vicino i lavori, però al di là di tutto si tratta di una situazione che da vent'anni a questa parte fa discutere proprio per l'incapacità di essere riusciti da più punti di vista, da parte dello Stato, da parte del privato che costruì, da parte anche delle amministrazioni che si sono susseguite nel tempo e che hanno anche cercato di trovare una possibile soluzione, doveva diventare prima la questura, poi doveva diventare la cittadella della sicurezza. Bene, cittadella della sicurezza dovrebbe sorgere a pochi passi da lì perché lì è già andato giù tutto, cioè nell'ex caserma Giulio Cesare è stato tutto demolito e quindi ci si aspetta che poi nei prossimi mesi partano i lavori per la realizzazione di quella che sarà una cittadella che avrà al suo interno diverse forze dell'ordine. A pochi passi ci sarà il nuovo stadio come presumibile insomma anche dalle indicazioni date sia dall'amministrazione che dalla proprietà e poi appunto questa larga zona da una parte di residenziale perché giustamente nel servizio si parlava del residenziale che sarà realizzato da ASI, quindi chiaramente un residenziale privato, probabilmente immagino anche alloggi di qualità vista anche una zona molto vicina al centro storico e quindi immaginiamo anche insomma appetibile per chi desideri comprare, acquistare una nuova casa, ci sarà anche il residenziale pubblico che partirà come realizzazione contestualmente all'apertura del cantiere invece per il nuovo supermercato. Leggevo che il nuovo supermercato potrebbe aprire addirittura entro la fine del 2025, quindi insomma una volta demolito poi a costruire effettivamente oggi insomma anche con le moderne tecnologie di costruzione e probabilmente in pochi mesi il nuovo stabile quello che sarà il supermercato dovrebbe sorgere. S lunga si dice un po' ovunque per cui insomma alla fine poi quale sigla sarà poco importa ma nascerà un nuovo supermercato di medie dimensioni per quello che riguarda Rimini. Volevo aprire così questa mattina perché chiaramente adesso la nostra trasmissione ci porta ad approfondire due tragedie ne abbiamo parlato anche ieri insomma che hanno veramente sconvolto la nostra comunità nella giornata di venerdì anche per noi che facciamo questo mestiere è stata una giornata difficile una giornata che ci ha ammantato di dolore proprio uscendo la sera dalla redazione abbiamo detto è così difficile raccontare queste storie poi sono arrivati dei dettagli su quanto è accaduto e chiaramente i dettagli non fanno altro che aggiungere dolore al dolore in primis ai familiari delle vittime perché qui ci sono tante vittime purtroppo di cui parleremo tra un istante ma anche un'intera comunità che si interroga si interroga su tanti aspetti e probabilmente le risposte non riesce a trovarle ciascuno di noi non riesce a trovarle ma anche come comunità di riferimento allora la prima notizia ci racconta insomma delle fasi successive alla morte di Graziana Elga Todaro del suo figlioletto di 6 anni ricordiamola ancora una volta purtroppo nella mattinata di venerdì questa giovane mamma di 40 anni ha deciso di togliersi la vita gettandosi dal quinto piano del palazzo dove abitavano i genitori i genitori che ogni mattina lei raggiungeva per lasciare Manuel il suo bimbo che poi sarebbe stato portato al centro estivo dai nonni bene quella mattina di venerdì non ha fatto questo ha deciso di salire sul tetto terrazzo del condominio e di gettarsi con il bimbo tra le braccia bene si pensava che i funerali potessero essere a breve proprio perché i familiari attendevano che ci potesse essere la restituzione delle salme così non è perché il sostituto procuratore Luca Bertuzzi lo leggiamo anche dal nostro sito che è specializzato in reati da codice rosso e ha assunto la titolarità del fascicolo dalla collega Paola Bonetti ha disposto l'autopsia su entrambi lo scopo è accertare in che quantità quella mattina Graziana abbia assunto benzo di azepine e se le abbia fatte assumere anche al figlio prima di compiere l'estremo gesto la donna che riteneva la relazione con il compagno che è il papà del bimbo giunta al capolinea combatteva da tempo contro la depressione da circa un mese e mezzo si era rivolto ad una psicoterapeuta venerdì appunto è salita su questo tetto si è gettata nel vuoto portando con sé anche il figlio una tragedia a detta di chi la conosceva diciamo che in questi giorni alcune riflessioni da parte dei familiari da parte dell'avvocata anche la che la seguiva per la gestione legale del bambino vista la separazione da quello che era il papà del bimbo ma non era non era il marito dice che era una donna lucida una donna capace anche di gestire questa situazione probabilmente nessuno attorno a lei né anche le persone che le volevano più bene aveva capito invece la tragedia che stava vivendo interiormente e quindi insomma questo è dal punto di vista della cronaca bisognerà appunto attendere ancora qualche giorno per l'ultimo saluto a Graziani al suo bimbo ieri mattina leggevamo sulle pagine dei quotidiani come il desiderio della famiglia anche del papà insomma di Manuel sia di che questo ultimo saluto sia insieme sia insieme la mamma il suo bimbo anche nell'ultimo saluto da parte di chi resta che resta con un dolore straziante l'altra notizia sempre che leggiamo in primo piano sul nostro sito ci porta ad approfondire invece quanto è accaduto e a questo che resta ancora un mistero sulla coppia morta nel Po lei diciamo che è arrivata ieri questa notizia che effettivamente ulteriormente rispetto anche alle prime indicazioni incide sull'idea che ci si è fatto su quello che è accaduto è stata ritrovata una volta che appunto è stata estratta dall'automobile che era finita nel Po solo con la biancheria intima quindi non aveva abiti addosso ci sono diverse ore da ricostruire in quel pomeriggio in cui la coppia è andata verso il Cremonese che era il luogo di origine di entrambi entrambi vivevano da alcuni anni a Sant'Arcangelo poi la storia era finita insomma da alcuni mesi ma prima ascoltiamo il servizio del nostro Lamberto Abbati e poi eventualmente aggiungiamo qualche dettaglio delle goccioline probabilmente di sangue sono state individuate dai carabinieri sulle scale del condominio di via Terra Nova Sant'Arcangelo quello in cui abitava Lorena Vettosi tracce che sarebbero state lavate e che al momento non è possibile dire con certetta che appartengano un mistero quello dei coniugi del re usciti di casa giovedì scorso dopo le 16 i due erano separati da alcuni mesi non vivevano più insieme e pare che i rapporti non fossero idilliaci continuavano a vedersi di tanto in tanto soprattutto per i figli entrambi ancora minorenni la più grande ha 17 anni il più piccolo 13 cosa si è successo giovedì è ancora tutto da ricostruire l'unica certezza è che la Nissan condotta da Der Re è stata ripresa dalle telecamere mentre si inabissa nel Po a Casal Maggiore nella bassa cremonese luogo di nascita di entrambi pochi minuti prima delle tre di notte dai filmati Lorena appare inerme mentre Der Re sporge un braccio fuori dal finestrino perché secondo la tesi degli investigatori vuole impedire all'auto di incagliarsi nelle imbarcazioni ormeggiate stando alle indagini condotte in sinergia dai carabinieri di Cremona con quelli di Rimini emergerebbe un dettaglio non da poco la vezzosi quando viene estratta dall'acqua avrebbe indosso solo la biancheria intima l'interrogativo principale da sciogliere resta uno Lorena era viva nel momento in cui l'ex marito decide di gettarsi nel Po con l'auto poteva forse essere stata narcotizzata prima dell'estremo gesto l'autopsia dovrà dare i primi risponsi non so voi ma io faccio una gran fatica a guardare queste immagini di quest'auto che si inabissa pensando che all'interno ci sono due persone una persona che sembra anche vigile che cerca anche di fare delle cose con questo braccio fuori dal finestrino l'altra persona invece inerme insomma veramente veramente drammatico diciamo che dal punto di vista della cronaca c'è anche il tema temporale allora questa mattina sui quotidiani locali si viene detto come si sia scoperto che Del Re fosse già a Cremona alle 20 di giovedì quindi dopo due ore e mezza di viaggio circa quelle che ci vogliono dal nostro territorio da Sant'Arcangelo fino a quella zona lì presumendo che in via Terra Nova Sant'Arcangelo fosse arrivato intorno alle 16 del pomeriggio leggiamo sulle pagine del Corriere le ore da ricostruire restano due perché dalle 16 alle 18 poi dalle 18 alle 20 20 e 30 è evidente che c'è stato il viaggio tra l'altro ci sono anche delle telecamere di video sorveglianza che hanno ripreso l'automobile però in quelle due ore che cosa è accaduto tra l'altro alle 20 di giovedì del re va a casa dei genitori a casa al maggiore ma Lorena nessuno la vede quindi questa donna non è mai arrivata nella casa dei suoceri o degli ex suoceri e quindi l'ipotesi ai noi è che potesse essere già morta sicuramente l'autopsia sul suo corpo l'autopsia chiaramente l'ispezione cadaverica sarà fatta anzi l'autopsia su entrambi i corpi però le risposte potrebbero arrivare proprio dall'autopsia sul corpo di Lorena ma questa è la cronaca perché poi c'è tutto il resto ci sono due ragazzi di 14 17 anni che sono rimasti senza i genitori e che sono affidati ai nonni ma insomma non è neanche pensabile lo strazio che stanno che stanno vivendo bene io direi lasciamo la pagina della cronaca lasciamo insomma questo spazio a sé proviamo anche a meditarlo un po' e lo facciamo ascoltandoci un po' di musica tempo reale estate quando mi guardi c'è un'atmosfera ci sei solo tu ma la sala è piena luci su di noi cosa stai pensando adesso dimmi che mi vuoi e che non basta mai cosa ci fai lì seduta sola vestita come la prima la scala perché sai l'eleganza e non si impara con te davvero non c'è gara uh 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 diglielo a questa splendida moon che da domani non torno più sarà destino sai bene sai bene sai bene che se ci siamo io e te è perché il mondo è piccolo che ti brilla negli occhi stasera brucia come una candela la luna sembra una sfera che fa innamorare speciale anche se ballo con te non ti fidare di me che a volte sono più ma a volte volo via nell'aria aria 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 vado via per settimane poi ritorno qui da te non è come nelle piave la regina batte il rap c'è una musica là fuori fa l'amore con il vento regina mi concede questo lento sotto ad un chiaro di luna a volte ci vuole fortuna decide da sé decide il destino sei bene sei bene sei bene che se ci siamo a niente perché il mondo è piccolo che ti brilla negli occhi stasera brucia come una candela la luna sembra una sfera che fa innamorare speciale anche se ballo con te non ti fidare di me che a volte sono più ma a volte volo via diglielo a questa splendida moon che da domani non torno più sarà destino sai bene sai bene sai bene che se ci siamo io e te è perché il mondo è piccolo che ti brilla negli occhi stasera brucia come una candela la luna sembra una sfera che fa innamorare spessare ma anche se ballo con te non ti fidare di me che a volte sono più ma a volte volo via nell'aria aria 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 mentre andava questa canzone dei ricchi e poveri che si è mantenuta che si sono mantenuti molto bene anzi hanno veramente trovato nuova giovinezza dopo l'ultimo Sanremo noi parlavamo insieme al direttore artistico di uno nessuno centomila così perché a noi fa piacere parlare di letteratura di un certo spessore e di altre cose che sono visto a raccontare per dire che noi ascoltiamo la musica facciamo più cose contemporaneamente quindi siamo abbastanza giovani tutto sommato messa da parte la pagina della cronaca assolutamente doverosa andiamo a dare delle notizie che riguardano il nostro territorio in realtà noi questa notizia grazie all'esimio lavoro di Andrea Polazzi e l'avevamo già data venerdì perché hanno arrivati i dati del turismo della provincia di Rimini dati Istat che sono quelli rigorosi quelli che studiano nel dettaglio se va meglio se va peggio, il più o il meno l'anno scorso, il 2019 insomma fanno tutte queste importanti graduatorie bene ieri diciamo che le amministrazioni comunali un po' hanno deciso di intervenire su alcuni dati di dettaglio quindi c'è il dato complessivo della provincia di Rimini che nel primi 5 mesi dell'anno fa meglio del 2023 ma fa meglio anche seppur di percentuali basse 1-2% rispetto al fatidico 2019 che è un po' l'anno zero, è capitato tutto prima o tutto dopo bene, diciamo che ieri però quello che mi ha sollecitato una certa attenzione è stato l'intervento del sindaco di Rimini Jamil Saregolvad in particolare sui dati turistici del comune capoluogo ci soffermiamo su questi non perché gli altri comuni non siano importanti, tra l'altro su nostro sito trovate anche il dettaglio ad esempio di una regina di una cattolica che è andata molto bene, ancora prima aveva fatto il suo intervento anche Riccione ma al di là di questo è interessante capire intanto il capoluogo da solo Cuba il 56% di tutte le presenze della provincia quindi parlare di Rimini ha anche un suo significato dal punto di vista numerico però effettivamente di fronte a dei cambiamenti interessanti della tipologia di turismo forse sempre più proprio il nostro territorio delle domande ma soprattutto delle risposte perché le domande mi sembrano abbastanza chiare forse se le deve dare ma ascoltiamo il servizio Per Rimini è stata una primavera d'oro così commenta il sindaco Jamil Saregolvad i dati turistici dei primi 5 mesi dell'anno il capoluogo da solo copre il 56% delle presenze turistiche di tutta la provincia sfiorando gli 1,4 milioni di pernottamenti un record dal 2000 in poi se le difficoltà economiche degli italiani li fanno investire meno in vacanze ottimi dati arrivano dal mercato estero con un aumento del 15% dei pernottamenti rispetto anche al 2019 sono oltre il 32% del totale pur avendo sostanzialmente perduto l'intero mercato russo che 5 anni fa si contendeva con quello tedesco il primato sul territorio a colmare il buco e far segnare addirittura un sensibile più sono stati gli aumenti di ospiti da Germania Austria da Svizzera e Liechtenstein ma anche da Francia Belgio Olanda e Spagna a maggio quest'anno è bene ricordarlo è caduta la Pentecoste che porta con sé molti turisti di lingua tedesca ma sicuramente il traino primaverile arriva soprattutto da fiere congressi ed eventi per il sindaco Sadegolvadi il segmento estero è sempre più necessario e può fare un balzo sostanziale solo con la concretizzazione del piano industriale di sviluppo dell'aeroporto Fellini a cui si affianca il completamento della fiera il rinnovamento degli alberghi e delle spiagge i primi bilanci di giugno parlano di un mese dice ancora il primo cittadino con una buona prima settimana una flessione nella parte centrale anche a causa del meteo instabile e un'ottima chiusura con gli operatori che hanno buone attese per luglio ed agosto e allora visto che sei parato di luglio in questo servizio mi vorrei soffermare un attimo sulla notte rosa voi direte è finita la notte rosa vabbè chi l'ha vissuta l'ha vissuta chi è un po' idiosincrasico alla notte rosa probabilmente è andato a farsi un giro da qualche altra parte in realtà ieri un po' l'avevo detto non so se l'avate con noi anche ieri mattina perché ieri sono arrivate o meglio nella giornata di domenica sono arrivati dei commenti entusiastici da parte degli organizzatori delle amministrazioni comunali di APT di Visit Romagna dicendo che insomma è stata un'edizione molto importante dai numeri molto elevati anche di presenze di eventi da tutto esaurito in tutte le piazze del nostro del nostro territorio perché ricordiamo insomma notte rosa non riguarda solo la provincia di Rimini ma riguarda un territorio molto più ampio che è quello della Romagna e però io mi sono detta ma cosa ne pensano gli operatori arriveranno delle voci dissonanti rispetto a questa positività che arriva dai promotori che già guardano alla prossima edizione che sarà la ventesima bene neanche a dirlo questa mattina sulle pagine sia del Corriere che del resto del Carlino in particolare da Riccione ma ricordiamo che Riccione è sempre stato un po' critica nei confronti della notte rosa prima quando c'era anche un'amministrazione di un colore diverso insomma per dieci anni anche con la sua amministrazione critica nei confronti della notte rosa ora il colore dell'amministrazione è cambiato e c'è anche un sistema sinergico rispetto agli eventi e quindi anche una posizione positiva nei confronti della proposta però gli operatori riccionesi invece restano molto critici leggo solo velocemente dalla pagina di Riccione del Corriere Romagna la notte rosa adesso basta frena le prenotazioni dei turisti a parlare Rita Leardini che diciamo è un'albergatrice con i fiocchi nel senso anche per le realtà turistiche che è chiamata a gestire lei dice i nostri hotele intendendo gli hotele riccionesi sono pieni in ogni weekend di luglio non servono eventi aggiuntivi arrivano troppi malintenzionati per la movida spacca tutto serve coraggio la giunta si tiri fuori da questa proposta e quindi insomma una voce molto critica nei confronti della notte rosa d'altro canto se andiamo a leggere sulle pagine dell'arresto del Carlino la voce risonante è simile nel senso che anche il Carlino tra l'altro sente la stessa la stessa Rita Leardini ma sente anche il presidente il neopresidente dell'associazione albergatori che è Claudio Montanari anche lui molto critico nei confronti della notte rosa dove dice che in realtà più che delle persone che vogliono divertirsi arrivano persone che chiaramente non in modo generalizzato però insomma dice che insieme a coloro che arrivano per divertirsi ci sono anche persone che arrivano con un coltello in tasca o una dose di droga gli agenti della polizia locale ne hanno sequestrate a decine durante i controlli in stazione insieme alle altre forze dell'ordine sabato dice ancora Montanari c'erano stanze vuote negli hotel quindi per gli albergatori è la naturale conseguenza di una città invasa da una marea di giovani spesso di origine straniera e poco al di là che sono stranieri italiani insomma questo secondo me è secondario sta di fatto che invece non sono non arrivano in riviera per divertirsi ma per combinare insomma o bravate come abbiamo visto anche raccontando le cronache di questi giorni o anche con delle cattive intenzioni e quindi insomma anche su questo bisogna ragionare perché le posizioni sono sono un po' diverse anche rispetto a questa notte rosa ma era abbastanza evidente che da Riccione potessero arrivare delle voci critiche ora ci guardiamo un altro servizio perché ieri sul Sole 24 Ore c'era una ricerca una ricerca in merito a come nelle città della nostra provincia si arrivi velocemente ai negozi di prossimità vuoi andare dal fruttivendolo vuoi andare dal macellaio dall'alimentari bene riesci a farlo in 15 minuti diciamo che i dati sono un po' diversi tra la provincia in generale e il comune capoluogo dove queste 15 minuti sono abbastanza rispettati in tutti in tutti i quartieri ma sentiamo questo servizio perché è interessante capire come stiamo vivendo le nostre città Lucia Renati fare un salto a prendere il pane o il prosciutto o qualsiasi cosa manchi nel frigorifero al supermercato al negozio sotto casa in Italia è un lusso per pochi solo il 39% degli italiani ha questa possibilità e la provincia di Rimini in questa classifica si piazza nella metà alta delle città più servite da grande distribuzione e servizi di vicinato a stilare la graduatoria sulle 107 province italiane che misura per la prima volta l'accessibilità dei servizi in termini di vicinanza fisica è il sole 24 ore nell'ambito del progetto Urban Pulse 15 del centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne tramite tecniche avanzate di Geo Analytics è stato possibile calcolare la quota di popolazione in grado di raggiungere in 15 minuti a piedi almeno un negozio della grande distribuzione organizzata iper e supermercati discount e mini market o del piccolo commercio al dettaglio panifici macellerie pescherie frutti vendoli e così via la classifica premia soprattutto i territori del sud Italia Napoli ha il primato rispetto a quelli del nord dalle dinamiche più metropolitane la provincia di Rimini che è un po' metropoli un po' provincia è la seconda emiliano-romagnola dopo Bologna 32esima qui il 40% dei residenti impiega meno di 15 minuti per raggiungere un punto vendita alimentare dalla propria abitazione per quanto riguarda Rimini il 47,9% dei residenti può farlo con 16,2 punti vendita ogni 10 km2 il territorio riminese riesce a mantenere ancora un equilibrio tra servizi di vicinato e esigenze turistiche sottolinea l'assessore dell'attività economiche Iuri Magrini come amministrazione lo incentiviamo attraverso il programma SISE sostegno alle imprese e sviluppo economico ex no tax area i riconoscimenti alle botteghe storiche alle start-up e imprese giovanili e femminili conclude Magrini numerosi sindaci di città europee stanno già adottando il modello di pianificazione urbanistica in base a dati come questi la desertificazione e l'over-tourism stanno decimando i piccoli negozi nei centri storici dove sembra difendersi solo la ristorazione così aprono nuovi punti vendita anche in quartieri periferici con metrature sotto i 400 metri quadrati hanno costi di gestione ridotti e rispondono ai nuovi consumatori diminuiscono le famiglie numerose aumentano i single sempre meno persone fanno grandi scorte anche per ridurre lo scontrino medio insomma voi come fate la spesa andate alla grande distribuzione andate al negozietto sotto casa cercate di fare una spesa a chilometro zero plastic free ma soprattutto la domanda in 15 minuti riuscite ad arrivare in un posto bello dove andare che ne so a godervi uno spettacolo o a vedervi un film perché vi dico questo perché con il primo ospite di questa mattina andiamo all'arena estate dell'ex cinema pollo di Bellari e Giamarina quindi siamo nella zona cagnona proprio nel giardino di fronte allo storico edificio Liberty per parlare di questa rassegna che è curata da Prodi con noi in diretta c'è Sergio Canneto Sergio buongiorno buongiorno a tutti e tutti grazie di essere con noi allora si parte perché domani sera partite con questa rassegna 12 appuntamenti grande cinema sotto le stelle ci piacciono le arene all'aperto secondo me fanno tante estate Sergio è vero guarda è veramente molto vero e soprattutto in un luogo veramente magico il cinema pollo è stato la storia di Bellaria un cinema fondato all'inizio costruito perdonatemi proprio all'inizio del novecento un gesto un grandissimo gesto d'amore perché chi l'ha costruito l'ha costruito per la sua moglie compagna che era una cantante dirica anche piuttosto importante e quindi gli ha costruito questa sorta di cinema teatro tempio dove lei poteva esibirsi poi nel corso degli anni ci sono i mariti che portano i fiori lui gli ha costruito un intero palazzo in qualche modo legando il suo talento mi piace quest'idea mi piace quest'idea parte da questa cosa con una super particolarità quando noi apriamo le porte di questo cinema abbiamo di fronte la spiaggia e il mare una cosa unica in Italia non c'è più da nessun'altra parte proprio per dare il senso dell'estate però noi abbiamo deciso di usare questa piccola corte una bomboniera 50 posti uno schermo molto grande una grande qualità di proiezione per proiettare quello che secondo noi puntuato anche dal Bellaria Film Festival diciamo gli organizzatori erano i grandi eventi cinematografici di quest'anno e quindi c'è un po' di tutto Sergio avete deciso di proporre al pubblico che arriverà a godersi in qualche modo questo cinema con i piedi quasi sulla sabbia le proposte e poi chiaramente con questo legame che dicevi anche col Bellaria Film Festival tant'è che arriva anche qualcosa che è proprio approdato al Bellaria Film Festival di quest'anno visto anche il nome di voi che organizzate ci dici qualche titolo magari i primi giusto oppure quelli che a tuo avviso meritano veramente un'attenzione in più ma allora proprio per farvi capire come è costruito lo schema noi abbiamo fatto tre macro aree di interesse cioè il giovane cinema italiano quindi Gloria della Vicario quindi quelle state con i Ren di Sironi quei film che hanno transitato al Bellaria Film Festival gli oceni sono i veri continenti che l'ho anche vinto poi ci siamo passati per il grande cinema d'autore quindi da Benders a Guadagnino per poi arrivare anche perché no ai blockbuster americani quindi Furiosa Civil War il Regno delle Scimmie tutto questo per far capire che il cinema è tante cose è composito è vario e soprattutto attinge e accetta su pubblici diversi quindi grandi appuntamenti e poi chiaramente non c'è in questo momento ancora una calendarizzazione ma non trascureremo i piccoli quindi dedicheremo delle serate a loro che potranno venire lì mangiare qualcosa mentre guardano un bellissimo film all'aperto beh direi che l'idea è molto interessante tra l'altro con prezzi assolutamente popolari come forse deve essere anche l'estate un'estate per tutti anche al cinema benissimo sono d'accordo i prezzi la politica dei prezzi è molto importante noi ringraziamo sempre l'amministrazione comunale che chiaramente ci permette di avere una politica dei prezzi così buona così propositiva insomma verso chi vorrà partecipare e il cinema in questo momento ha veramente bisogno di eventi di manifestazioni di crederci e di coraggio sono d'accordo guarda Sergio sono d'accordo perché secondo me abbiamo bisogno intanto di bel cinema magari anche di bel cinema italiano indipendente insomma come quello che voi raccontate col Bellaria Film Festival ma anche altro cinema così come abbiamo bisogno anche delle grandi produzioni quelle insomma che si fanno oltreoceano ma c'è il desiderio di tornare a vivere storie storie che poi prendono vita su un maxi schermo ma che in qualche modo ci rappresentano quindi in questo caso forse il cinema italiano è anche quello che sentiamo più vicino per proprio la storia che siamo noi si parte domani sera siete prontissimi? siamo prontissimi ultimi ritocchi proprio di questa mattina stiamo valutando meglio il posizionamento delle ultime luci come mettere le sedie nel miglior dei modi ma siamo super pronti visto che ci sono solo 50 posti suggerisci prenotare venire un po' prima qual è il suggerimento per domani? allora io direi che forse arrivare un po' prima sarebbe molto molto buono si può anche prenotare però si può tranquillamente scrivere agli indirizzi che si trovano all'interno della nostra della nostra brochure eccetera oppure andare sul sito del approdiscinema.com o teatro astrabim che dire la proposta è molto bella ci faceva piacere raccontarla io lo dico sempre può essere una proposta per i turisti che chiaramente insomma ogni sera cercano di trovare qualcosa di bello sul nostro territorio ma perché no anche per gli amici che vivono nel nostro territorio perché come diceva Sergio possiamo riscoprire un luogo e che forse qualcuno non sanno neanche che c'è e quindi approfittiamone Sergio grazie di cuore buona rassegna grazie mille buona giornata ciao e adesso noi torniamo ad ascoltare un po' di musica perché poi di musica ma musica d'autrice ne parleremo tra un istante cosa mi fai sentire? vediamo io non lo vedo ancora cosa mi fai sentire? Sasha Sasha Tempo reale estate a te un po' di musica as we lay there side by side and everything around us disappears if you believe in love tonight I'm gonna show you one more time if you believe and let it out no need to worry there's no doubt if you believe if you believe if you believe then let it out as you run your fingers through my hair your lips come close to mine the tension becomes more than I can bear then you wrap your arms around me and I feel your every move this feeling could now lead us anywhere now we leave the world behind us this moment we will share just you and me that's how it's meant to be I never wanted you so much I feel your every breath as you gently whisper in my ear if you believe in love tonight I'm gonna show you one more time if you believe then let it out no need to worry there's no doubt if you believe if you believe if you believe then let it out if you believe if you believe noi ci crediamo e ci crediamo che la musica possa cambiare le nostre giornate allora con la ospite che abbiamo in diretta con noi andiamo anzi torniamo perché ne parleremo un po' in tutta la settimana a Eco di Donna Evolution dall'11 al 13 luglio tra il Giardino di Bimbi all'Hotel delle Nazioni la Piazzetta la Quadra dell'Orto comunque siamo nel quartiere di San Giuliano perché siamo pronti giovedì parte al Giardino di Bimbi questo bellissimo evento di cui abbiamo parlato anche ieri con il concerto di Cristiana Verardo che abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi Cristiana buongiorno 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 grazie di essere con noi cantautrice chitarrista salentina Cristiana la prima cosa che ti chiedo ancora prima di raccontarci poi che cosa porterai sul palco di Eco di Donna Evolution quando ti sei sentita coinvolta immagino da Chiara Raggi che ti abbia chiamato ecco che come hai risposto alla proposta? beh ho aspettato nel senso è sempre bello quando quando è un artista ad organizzare se a virgolette qualcosa e quindi è sempre bello quando vieni contattato da un artista da una collega quindi non potevo che dire di sì soprattutto a Chiara che stima molto quindi un incontro tra artiste diciamo così dal tuo Salento fino alla in fondo il mare è sempre lo stesso un po' diverso però il mare che ci unisce è sempre è sempre lo stesso tra l'altro ieri ci raccontava Chiara appunto che era qui in studio con noi anche delle tematiche che tu vai raccontando attraverso la tua musica lei dice io mi sono mi sento in profonda sintonia anche con la proposta artistica ma anche tematica di Cristiana sì questo mi onora cerco di di raccontare quello quello che sento cioè quello che penso il mio pensiero lo traduco in musica e che quali sono le storie che ti piace raccontare Cristiana? allora nel primo album ho parlato tanto di donne ecco a proposito quindi ho raccontato la storia di Rosa Balistrieri ho raccontato una storia una canzone ho raccontato una storia ma che poteva racchiudere tante storie ho parlato di Nannerl che era che sa che era la sorella di Mozart e del suo talento nascosto nascosto ci è messo in ombra diciamo da quello del fratello ho parlato di Gertrude della monaca di Monza e dell'amore che non è stato concesso insomma ho raccontato un po' un po' tanto delle donne e quindi in qualche modo sei assolutamente protagonista di questa edizione di Ecodone Evolution che porta tanta musica d'autrice anche provando proprio a sottolineare tanto talento che spesso in un mondo non semplice quello delle cantautrici vivete quindi voci importanti come la tua sono fondamentali ma che cosa regalerai al pubblico di Rimini quando giovedì ti esibirai allora il concerto di Rimini sarà un concerto in solo i concerti in solo sono quelli che tra virgolette temo di più ma che alla fine poi mi piacciono di più perché sono solo io con il pubblico e quindi io sono la guitarra la voce accompagnata da un solo strumento e quando è così si crea sempre un'atmosfera più intima nella quale hai bisogno per forza di essere sincera ecco diciamo così che bella questa cosa che dice che ci hai regalato effettivamente c'è una forse anche più in qualche modo qualche cosa di più delicato di intimo in una sola persona che è voce chitarra come quella che insomma porterai porterai a Rimini magari più difficile per l'artista ma io credo che per chi sarà lì ci sarà anche la possibilità di entrare più in empatia più in sintonia anche con quello che ci racconti allora Cristiana prima di salutarci una curiosità ma questi uccellini meravigliosi che accompagnano la nostra intervista e vedi che la musica ci accompagna anche quella della natura ma dove sei con questo splendido ritornello di sottofondo magari ti aspettavi un nelle campagne del Salento no sono a Milano no sono a Milano quindi ci sono gli uccellini anche a Milano ma questa è una notizia Cristiana ci hai dato una notizia forse tu amante del Salento forse a Milano hai trovato un angoletto più bello magari dei altri più cementificati quindi complimenti Cristiana noi ti aspettiamo a Rimini ricordiamola ancora una volta giovedì 11 luglio la prima serata di Eco di Donna Evolution al Giardino di Bimbi siamo quindi in questo giardino riqualificato dell'ex Hotel delle Nazioni si parte alle 21 e 30 sarà grande musica Cristiana grazie e ti aspettiamo buona musica grazie a voi grazie mille ciao e questa era la proposta della prima serata di Eco di Donna Evolution ma continueremo a parlarne in settimana con le varie proposte che ci saranno in queste tre giornate intense dalla musica di cui come sapete io so tantissimo alla danza di cui so ancora di più perché a Rimini arriva il concorso Nureyev tu Max Albirici come sei messo con il come è i passi dai non ci sai il primo seconda niente comunque arrivano dei grandissimi talenti dei talenti che chissà dove li porterà la loro carriera le loro capacità le loro competenze siamo alla quinta edizione un appuntamento veramente importantissimo per chi suda quotidianamente nella danza classica e ci racconta tutto un grande esperto di danza qual è Stefano Ravaglia la danza classica torna a essere protagonista dell'estate riminese grazie alla quinta edizione del concorso Rudolf Nureyev il primo concorso internazionale per giovani studenti e danzatori e danzatrici professionisti dai 15 ai 24 anni dedicato alla memoria del celebre ballerino e coreografo organizzato dall'associazione culturale Art Fest in collaborazione con il comune di Rimini e il sostegno della fondazione Rudolf Nureyev l'edizione 2024 avrà luogo al teatro a Minitore Galli da martedì 16 a domenica 21 luglio con 7 candidati in concorso provenienti da Italia Francia Croazia e Giappone il concorso dal 2019 si pone come primo specifico obiettivo quello di perpetuare l'immensa eredità coreografica del più grande danzatore del ventesimo secolo selezionando giovani danzatori di talento provenienti dalle grandi scuole superiori e dai corpi di ballo di tutto il mondo che avranno così la possibilità di vivere un momento privilegiato di formazione e perfezionamento con grandi stelle della danza quinta edizione del concorso dedicato a Nureyev un concorso destinato sempre più a crescere sì questo è l'unico concorso che esiste al mondo dedicato al grande maestro coreografo danzatore Rudolf Nureyev ha una vocazione fortemente pedagogica cioè si basa sulla trasmissione dell'esperienza e delle competenze dei maestri dell'etuale che hanno lavorato con Nureyev e che vogliono trasmetterla ai giovani quindi Rimini è veramente una città fortunata perché questa è una gemma che può solo crescere sarà una settimana molto intensa di studio dove mi dovrò focalizzare molto su appunto sulla variazione su quello che devo fare sulle lezioni e mi potrò confrontare con l'etuale dell'opera di Parigi e per questo sono molto felice sono molto contenta grazie al sostegno il patrocinio la fiducia della fondazione Nureyev e grazie anche al sostegno del comune di Rimini ci possiamo permettere un progetto di didattica della che è un settore molto trascurato in Italia e potrei quasi dire solo in Italia e beh un bel monito questo che arriva dal concorso vi dicevamo all'inizio della nostra puntata di Tempo Reale Estate che vi avremmo proposto degli eventi e quindi siamo andati al cinema siamo andati alla rassegna musicale per uscire ma per chi volesse restare in casa che cosa potete fare se non guardare i caro tv in particolare proprio da questa settimana perché parte un nuovo fantasmagorico programma giustamente non è che lo dico perché mi pagano ma perché io ci credo veramente che questo sarà un bellissimo programma loro sono quelli dell'agnamo nel senso che sono di ci allengiamo sono adesso di romagnamo e sono fabio caldari e andrea sarti i nostri conduttori di punta e questa mattina andrea è con noi ciao andrea buongiorno ciao simona buongiorno allora nella realtà la sorpresa è che non c'è solo andrea sarti ma è anche fabio caldari ma siete insieme ma questa è una carambata siete insieme è perché noi siamo qua a Gatteo Mare e allora innanzitutto hai presentato malissimo perché non siamo quelli degli amo amo ma maniamo ah no va bene è il maniamo e tant'è che noi siamo qui in riva al mare a Gatteo Mare perché siamo già pronti per questa sera abbiamo pasta cappuccino poi tutta una serie di salati perché vogliamo proprio iniziare col maniamo già di prima mattina allora guarda secondo me ragazzi voi siete quelli dell'amo cioè divertiamo perché ci avete fatto divertire tantissimo durante la stagione invernale con ci allengiamo adesso siamo pronti in questa settimana a partire con romagniamo ma raccontiamo che cos'è questo romagniamo perché voi vi siete divertiti a far diventare un po' romagnoli coloro che in Romagna spesso ci vengono solo per far vacanza sì allora guarda tutti questi giorni abbiamo iniziato a fare un po' di prove di cose eccetera eccetera e come dire il filo conduttore il filo rosso conduttore di questo programma è amare la Romagna romagniamo ecco appunto il programma e ci piace far amare la Romagna anche a tutti coloro che non appartengono a questo territorio ma che in questo territorio vivono le loro vacanze e quindi quale luogo migliore se non gatteomare ridente cittadina dove veramente ci si diverte perché è un villaggio globale dove le strade ogni sera vengono imbandite dagli animatori e noi ci siamo un po' tra virgolette uniti a loro per far divertire la gente che ci guarderà e che ci vorrà guardare da casa e tutti i turisti che invece ignari si sono che saranno coinvolti a loro in sabuna Fabio ma che cosa fate fare a questi poveri turisti cioè in che modo li coinvolgete perché guardando anche qualche prima immagine del dello show diciamo che mi pare si siano divertiti moltissimo assolutamente sì guarda non vorrei dire perché vorrei che fosse tutta una sorpresa però guarda i concurenti assolutamente erano bastanti attitubanti all'inizio ma poi in realtà finivano la puntata che erano entusiasti quindi speriamo che anche il pubblico che ci guarda ci guarderà da casa possa provare le stesse sensazioni quindi non voglio svelare nulla non vuoi svelare nulla e fai bene bisogna stare attaccati a Icaro TV per vedere questa bellissima proposta estiva della nostra emittente mi par di cogliere che anche il pubblico di Gatteo è entusiasta ricordiamo che la piazza di Gatteo questa piazza si anima ogni sera con un evento diverso ed è molto bello perché tante persone effettivamente approfittano di questi appuntamenti gratuiti insomma per divertirsi c'è voglia di uscire c'è voglia di estate e voi siete praticamente so che siete diventate le star dove vi fermano in ogni bar in ogni stabilimento sono i due sono Fabio e Andrea è vero anche la polizia anche la polizia che vi ferma allora siamo a posto le abbiamo fatte tutte allora ragazzi noi ci risentiremo in settimana perché non è che siamo sazi di quello che ci avete raccontato perché è solo un primo passaggio allora salutandovi noi e salutando anche gli amici di Temporeale Estate proponiamo il promo perché l'abbiamo già realizzato voi siete belli meravigliosi bravissimi felicissimi noi di avervi in squadra e vi aspettiamo vi aspettiamo sul palco di Gatteo non vi aspettiamo io vorrei sottolineare non tanto bravi non tanto capaci ma quanto belli noi ce la giochiamo solo ed esclusivamente per la nostra avvenenza ferica è così perché noi a Icaro Andrea lo sai ci teniamo a questo aspetto se non sei bello assolutamente non lo so se è impossibilità nelle nostre ragazzi buona giornata grazie mille a voi mi raccomando alla polizia ciao 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 e allora noi andiamo a vederci intanto il promo di Romagnamo Romagnamo il nuovo e divertente game show di Icaro TV che ti porta alla scoperta di luoghi nascosti balli canti tradizioni e bellezze della Romagna in compagnia di Andrea Sarti Fabio Caldari e Gianni Broccoli il birro di Romagna direttamente dalla piazza di Gatteo Mare Romagnamo da giovedì 11 luglio alle ore 21 solo su Icaro TV e allora noi abbiamo Andrea e Fabio che sono già pronti a Gatteo ci aspettano fino a giovedì allora avete sentito la prima serata di Icaro con questa bellissima nuova proposta dell'estate 2024 per cui torneremo anche con Andrea e Fabio a raccontare un po' di Romagnamo avete sentito questa bella voce del nostro direttore Max Alberici che vi accompagna in questo promo e a questo punto la mia voce invece deve tacere perché sono già le 10.02 ed è ora di salutare bene ancora grazie a Max per avermi tenuto compagnia e avermi detto taglia stringi metti proponi vai con la musica e adesso io vi saluto questa settimana basta con Tempo Reale Estate domani troverete Stefano Rossini che vi tiene compagnia domani e dopodomani poi arriva Roberto Bonfantini insomma una settimana ricca anche della nostra presenza di redazione dove siamo tutti molto belli oltre che molto bravi buona giornata e grazie e buon proseguimento con i programmi di Radio Icaro e Icaro TV Tempo Reale Estate la nostra piattaforma esterna è un paradiso per gli amanti del pesce della pizza e dei cocktail la quarantesima edizione di Cartoon Club Festival Internazionale del Cinema da Nazione Funetto e Games vi aspetta a Rimini dal 15 al 21 luglio un'esperienza unica per appassionati e famiglie capace di unire passione e divertimento sole e mare nella città più accogliente del mondo siete pronti per l'evento più atteso dell'estate tutte le iniziative sono ad ingresso libero non mancate Cartoon Club is the best conosci Locatop? portiamo in alto persone e materiali specializzati nel noleggio senza operatori con mezzi all'avanguardia controllati prima di ogni noleggio noleggio anche con operatore Locatop 12 sedi in Emilia Romagna vendita nuove usato garantito polizie assicurative sui mezzi annolo costi e formazione per lavorare senza incertezze Locatop il noleggio che fa la differenza www.locatop.it Delis Soler vivi il sole il mare la spiaggia e colora la tua estate con i prodotti Delis Soler adatti a te ai tuoi piccoli e a tutta la famiglia e se vuoi essere chill scegli la linea Beach Party